E' con grande piacere che faccio questo endorsement alle amici di Portici che si ritrovano a premiare la compagnia teatrale o il monologhista amatoriale più bravo. C'è anche una giuria di attori professionisti che garantisce la massima trasparenza, il premio ha sempre più importanza a livello nazionale, ci partecipano e ci lavorano dei miei amici per cui mi sento coinvolto al pari di loro. Spero che arrivino tante iscrizioni e spero poi di vedere presto anche il vincitore per stringergli la mano. Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti!